Rocco Assante, Presidente del Consiglio Comunale di Monte di Procida, una seduta molto movimentata e secondo quando dice l'opposizione avete abbandonato l'aula perché non avevate più il numero legale e argomenti per far valere le vostre ragioni. Non è esattamente così, la seduta è stata movimentata solo nelle fasi finali. Fino a quel momento, fino all'interruzione da parte del Consigliere Pugliese, il Consiglio Comunale andava avanti, anzi anche credo in maniera costruttiva. C'erano stati interventi appassionati sia da una parte che dall'altra, da parte delle minoranze che da parte della maggioranza. Poi improvvisamente c'è stata questa anomala mozione d'ordine da parte del Capogruppo di Svolta Popolare, il Consigliere Pugliese, che come mozione d'ordine chiedeva di mettere ai voti un documento. Ovviamente utilizzavo uno strumento assolutamente improprio, la mozione d'ordine, per chiedere qualcosa che non era assolutamente prevista dall'ordine del giorno né tantomeno dall'andamento dei lavori. Forse perché ormai voi non avevate più la maggioranza in seno al Consiglio? Diciamo che questa circostanza era così già da almeno un'ora, da più di un'ora, quindi questo è il fatto strano, questa improvvisa accelerazione da parte del Consigliere Pugliese che evidentemente non si era accorto che era già da un'ora, che non c'erano i numeri e nonostante questo la maggioranza era in aula proprio per il dibattito e il confronto su questo argomento che tutti riteniamo sia molto importante. Invece improvvisamente probabilmente si è accorto di questa cosa temendo che i numeri potessero ritornare in qualche modo, come ha scritto anche su qualche blog, addirittura pensava che stessimo aspettando il nostro capogruppo che come lui ben sapeva, visto che gli era stato comunicato in precedenza in conferenza dei capogruppo, era addirittura all'estero, era in volo verso l'Italia ma era all'estero. Quindi pensare che lo potessimo aspettare per ricostituire il numero è abbastanza furviante. La cosa assurda è proprio questa questione della mozione d'ordine perché lui insiste nel dire che bisognava votare immediatamente questa mozione d'ordine e dimentica che quella che ha fatto lui non è una mozione d'ordine. La vuole chiamare così, la chiami così, ma è tutta un'altra cosa. Fatto vero è che è stato impedito al sindaco di argomentare sull'argomento all'ordine del giorno. All'inizio della consigliatura aveva una maggioranza, diciamo tra virgolette bulgare, adesso si è assottigliata di molto. Sì, questo è accaduto già da oltre un anno. Quasi subito dopo le elezioni del 2011 abbiamo avuto tra virgolette tre consiglieri eletti nelle fila della maggioranza che hanno preso posizioni diverse. Alcuni apertamente di opposizione, altri che si manifestano di volta in volta a seconda dell'argomento trattato. Da questo punto di vista sicuramente la maggioranza si è assottigliata, però i numeri ci sono, come dimostra il manifesto che è stato redatto subito dopo il Consiglio Comunale. I nove consiglieri di maggioranza sono compatti e solidali con il sindaco, quindi rimarcare il fatto che la maggioranza in questo caso è stata messa sotto con i numeri, secondo il capo gruppo pugliese, è completamente fuori luogo. Grazie. Grazie